E' qui con noi Laura, ciao Laura. Buonasera. Ecco, Laura ha un master prestigiosissimo, vogliamo dire in cosa? Sì, io ho un dottorato in telefonismo, posso rispondere a tutti i tipi di telefoni. Vabbè? Ma questi ragazzi al giorno d'oggi sono in gambissima. Laura è qui per accogliere tutte le telefonate di solidarietà a Luca Barbareschi, a furia di entrare e uscire da FLIA e dal PDL, non lo vuole più nessuno. In questo momento, politicamente parlando, è sul pianerottolo, il pianerottolo delle libertà. Sei pronta Laura? Saranno migliaia e migliaia di telefonate, te la senti? Io ho fatto il Gianni Moranditon, la raccolta di solidarietà per operare Gianni Morandi alle mani.